E state riscontrando problemi riguardo al controller su Call of Duty Black Ops 6 che è uscito oggi il 25 di ottobre quindi per quelli che già stanno avendo problemi riguardo anche al controller e anche altri problemi che ti ho lasciato in descrizione oppure nella playlist di Call of Duty su come risolvere problemi di Crash, DirectX e anche problemi all'avvio ma oggi faremo un tutorial su come risolvere il problema del controller quindi iniziando prima di installare fortunatamente abbiamo il gioco su Steam quindi grazie a Steam loro ci possono dare tanto supporto quindi se vai direttamente su Steam qua sopra vai su impostazioni una volta andato su impostazioni scendi fino a giù fino a trovare controller ed eccolo qua ho collegato e ho connesso il mio controller Xbox che me lo rileva come Xbox però non è della Xbox scendiamo fino a giù fino a trovare abilità Steam Input per i controller Xbox PlayStation qua lo tieni attivo abilità Steam Input per i controller Switch Pro controller generici qualsiasi controller e poi sotto estesa Xbox funzionalità tu installa così i driver sul tuo controller se non dovesse funzionare tu puoi abilitare avviare il gioco in modalità Big Picture quindi modalità Big Picture grazie anche a questa modalità noi possiamo aggiustare il controller qua sopra andando direttamente sul controller qua layout attuale del pulsante ci clicco qua sopra layout ufficiale per Call of Duty se stai usando questo e non funziona puoi provare a usare il layout della comunità come puoi vedere hanno scaricato tutti questo e funziona perfettamente puoi scaricare e installare il layout qua sotto poi ti dirà applica layout andiamo indietro sempre su impostazioni proprietà controller ed eccolo qua cambia per Call of Duty uso impostazioni pretefinite abilita Steam Input ora il controller è abilitato quindi qualsiasi controller è abilitato su Call of Duty se non dovesse funzionare usciamo un attimo dalla modalità Big Picture quindi esci dalla modalità Big Picture tasto destro su Start qua sopra andiamo su gestione dispositivi scendi fino a giù fino a trovare periferiche del tuo controller il controller xbox c'è una driver cerca il driver nel computer chiamo questo e installiamo così il driver abbiamo così installato i driver sul nostro sistema poi ci dirà di riavviare il nostro computer facciamolo non dovesse bastare puoi semplicemente andare a scrivere qua sopra controller configura dispositivi di gioco USB contro l'Xbox facciamo avanzate e qua se non è stilezionato devi selezionare il tuo controller e fai ok se funziona vai su proprietà provi a vedere se il controller funziona quindi funziona perfettamente il test è andato quindi facciamo ok ora se non dovesse funzionare puoi semplicemente scollegare anche il tuo controller avviare il gioco e ricollegare il controller durante il gioco oppure una volta installato tutti i driver devi riavviare il tuo sistema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao grazie a tutti